buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv ebbene oggi è sabato 13 gennaio 2024 siamo quasi a metà del mese ci stiamo avvicinando sempre più all'inizio del carnevale un periodo importante a fano non soltanto per le tradizioni anche perché si rivolge ad una situazione economica che può beneficiare tanti tanti tante tante persone tante tante aziende ebbene noi però cominciamo con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo qua e sant'ilario di poitiers visse nel quarto secolo in francia nato da una famiglia pagana si convertì si fece sacerdote poi fu nominato vescovo si confrontò con l'imperatore costanzo fu esiliato in frigia dove scrisse opere di grande importanza come il trattato della trinità contrastò in modo particolare l'eresia dell'arianesimo e fu molto amato dai suoi fedeli questo è sant'ilario di poitiers vediamo anche le previsioni del tempo ecco la grafica ci mostra un tempo tutto sommato buono tempo stabile in prevalenza solleggiato salvo qualche nube in più a ridosso dei rilievi appenninici il clima però continua a rimanere freddo al mattino le temperatura la temperatura minima è tre gradi la massima otto gradi sulle coste i venti ispireranno con una tensione media da nord nell'interno invece con una tensione più debole da ovest e sud ovest il mare è abbastanza abbastanza mosso il sole questa mattina sorge alle 7 e 40 e tramonterà alle 16 e 50 le giornate si allungano leggermente piano piano andremo avanti fino alla primavera queste le notizie del tempo ora possiamo dare un'occhiata ai giornali a partire oggi dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano ma su tutti i giornali prevale un po la cronaca questa mattina infatti un furto con scasso si è verificato ieri nel centro storico di Fano rompe la vetrina con una tegola e fa razzia di indumenti e denaro furto nella notte all'Ipebec i carabinieri bloccano in flagranza un 26enne ebbene un 26enne originario del Gambia in Africa è stato arrestato per furto una grossa tegola è stata usata per sfondare la vetrina di questo negozio negozio di abbigliamento che si trova in via Montevecchio sono stati rubati circa 2000 euro di vestiti tra giacchetti felpe magliette e anche il registratore di cassa ma qui il danno è stato più ingente per la per lo scasso del registratore che per i soldi che conteneva sole poche decine di euro i carabinieri della compagnia fanese hanno aggiunto anche l'accusa di resistenza pubblico ufficiale perché il giovane si sarebbe opposto con certa vigoria al loro intervento infatti i carabinieri sono riusciti ad acciuffare il ladro e a portarlo in prigione in totale il danno dovrebbe aggirarsi tra i 5.000 e i 7.000 euro compresa la vetrina in doppio vetro anti sfondamento questo è un po' la stima del titolare del negozio Tommaso Acquadro l'allarme è stato dato da una residente che è stata svegliata dai rumori il titolare 19enne aveva aperto appena un mese fa e purtroppo è stato colpito da questa razzia da questi danni visitatori in crescita natale più 30 per cento è il senso di un consuntivo che l'assessore agli eventi etienne lucarelli ha tracciato ieri in una conferenza stampa che si è svolta nella sala della concordia siamo ormai abbiamo mai lasciato alle spalle le festività natalizie ebbene sono state attività particolarmente attrattive per i turisti che sono giunti a Fano da diverse regioni d'Italia sono state tre le attrattive più importanti innanzitutto il presepe di San Marco che è stato visitato da circa diecimila persone così come ha relazionato Don Marco Polverari che è l'autore di questa grandiosa rappresentazione non solo della nascita di Gesù ma di tutta la Bibbia di tutti gli episodi della Bibbia poi tantissime persone ai diecimila anche le visite alla chiesa di San Francesco con questo spettacolo di luci che ha tracciato un po' la storia di tutto l'edificio un'altra attrattiva è stata ovviamente la mostra sul perugino che durerà ancora per diverso tempo e sta veramente attraendo tantissimi visitatori e su scala nazionale dunque una serie di iniziative che hanno reso Fano una città molto molto ambita anche durante le feste natalizie questo non capitava in passato il Natale non era un'attrattiva turistica adesso invece lo sta diventando grazie a queste grosse grosse iniziative grosse manifestazioni che si distinguono a livello nazionale visitatori in crescita natale più 30 per cento rispetto al passato giriamo la pagina e vediamo una una un corso un corso nuovo che è stato organizzato dal Don Orione al via specializzazione post diploma e 14 aziende sono pronte ad assumere e sono corsi questi che sono finalizzati a trovare un posto di lavoro ai giovani che hanno superato la maturità quindi sono giovani post diploma che però sono specializzati nella industrializzazione più avanzata ovvero per le esigenze di quelle ditte che si sono che si sono dotate di impianti molto molto progrediti e quelli che riguardano l'automazione quelli che riguardano una computerazione spinta quelle che hanno dato quelli che hanno acquistato tanti apparecchi e ora a queste aziende servono serve personale per farlo funzionare ebbene questo corso che è stato organizzato sono 20 i ragazzi che sono già allievi di questo corso il corso è cominciato l'otto gennaio scorso e finirà a settembre poi verrà rinnovato anche il prossimo anno l'istituto Don Orione ospita un corso di meccatronica sostenuto dalle associazioni imprenditoriali ed ora passiamo alle notizie di politica le notizie di politica dimostrano ancora come sia nel centro destra che nel centro sinistra ancora debba essere definito l'assetto per la presentazione alle prossime elezioni amministrative c'era una iniziativa a livello provinciale che è in programma al quale si pensava che fosse delegato il compito di formalizzare specialmente per quanto riguarda il centro destra il candidato fanese alle prossime elezioni amministrative così non sarà lo ha detto la elisabetta foschi di forza italia la quale esclude che il confronto tra i partiti debba partorire la valla ufficiale alla candidatura in modo particolare di luca serfilippi che è la candidatura più rappresentativa che ha presentato la lega nei giorni scorsi ebbene ancora si nicchia ancora si attende comunque questo è un compito che viene delegato alle segreterie comunali e non quelle provinciali e questo è un metodo più giusto in quanto poi sono i locali che devono poi decidere di presentare come candidato sindaco in modo particolare se questo poi rappresenta non un solo partito ma tutta la coalizione il campo largo è spaccato melina del centro destra che ancora insomma non si decide a formalizzare una candidatura che ormai si considera che è ormai quella che deve essere insomma detto in parole povere a cartoceto a cartoceto ci sono 14 utenze di cui anche un ristorante senza acquedotto appello al comune a marche multiservizi è una situazione questa che si trascina da diverse anni sono state scritte diverse lettere al comune agli organi competenti ma ancora non si è avuta nessuna risposta e bisogna andare a rifornirsi nell'acqua dei pozzi ma poi l'aggravante è stata che anche l'acqua dei pozzi non è bevibile non è potabile perché è stata considerata con i parametri non in sintonia con quelli autorizzati e allora bisogna procedere a tutto un procedimento di potabilizzazione per purificare l'acqua ed è una situazione questa che sta diventando insostenibile sia per le famiglie sia per questa azienda della ristorazione che insomma ha un aggravante di spesa non trascurabile ecco perché c'è questo appello rivolto al comune e a marche multiservizi riqualificazione di spazi urbani i progettisti e l'assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici francesco baldelli ha reso noto l'elenco degli architetti vincitori per i progetti di mercatello sul metauro borgo pace e sanotaglia il concorso che è stato così chiamato fattore q riguardava la riqualificazione di spazi urbani ed ha coinvolto addirittura 111 comuni e qua insomma c'è l'esito di questo concorso un episodio di cronaca ci viene segnalato da mondolfo un operaio era salito su una scala per potare una pianta è caduto e si è fatto veramente male si tratta di un 55enne che è stato poi soccorso da una eli ambulanza e trasportato all'ospedale di torrette in ancona l'incidente è accaduto a ponterio nel comune di mondolfo però sembra che non sia in pericolo di vita l'operaio che che per fortuna per fortuna non era solo è improvvisamente caduto dalla scala precipitando a terra sul posto oltre all'ambulanza è intervenuto anche l'equipaggio di Icaro che ha soccorso Icaro Icaro e l'eliambulanza che ha soccorso il ferito trasportato per accertamenti appunto all'ospedale di Ancona e vediamo anche a fondo pagina la neve che sta cadendo sul Catria sul Nerone e sul Monte Carpegna per la felicità di chi ama lo sci vediamo anche Senigallia a Senigallia si parla del processo Padovani la per la procura Padovani l'ex calciatore Stolker è da ergastolo ha annientato la sua ex compagna così è stato dichiarato è stata chiesta dunque la massima pena per il calciatore in aula sono state mostrate le foto shock del cadavere della donna l'orribile crimine di cui si è macchiato Padovani va punito con l'ergastolo così è terminata la richiesta della massima pena prevista dal nostro ordinamento giuridico da parte del della procura bolognese sul processo Giovanni Padovani insomma un episodio che poi è stato rievocato in tutti i particolari di fronte al giudice ancora ovviamente non è stata emessa la sentenza la prossima udienza di fronte alla corte di assise di Bologna si terrà il 22 gennaio quando parleranno le parti civili e il difensore dell'imputato poi verrà fessata un'ulteriore udienza per le repliche e la camera di consiglio da cui proverrà la sentenza il dramma di Senigallia il dramma di Senigallia una donna si è gettata tra i binari mentre passava il treno l'ultima telefonata e vola sui binari muore a 34 anni travolta dal treno lo shock alla stazione di Senigallia la donna è stata vista discutere animatamente al cellulare poi ha preso la soluzione di gettarsi tra i binari mentre sopraggiungeva un treno che non era nemmeno molto molto veloce purtroppo però l'impatto è stato fatale vediamo anche l'apertura sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico e vediamo un appello anzi una critica super bonus a rischio almeno 300 cantieri pioveranno delle vertenze lo dice Rodolfo Brandi presidente dell'Ance e bene c'è una un quadro riassuntivo di tutto quello che sta capitando nel settore nel settore dell'edilizia sono 5090 le imprese registrate per il super bonus al 70 per cento sappiamo come la finanziaria ha ridotto il super bonus dal 110 al 70 per cento 4537 sono attive nel 2023 4748 provengono dal 2022 2416 sono le attività immobiliari e oltre 2000 i cantieri in provincia con il super bonus ma il dato più significativo sono le 300 sono 300 i cantieri che sono a rischio quindi una situazione che può determinare gravi ripercussioni nel settore dell'edilizia ma anche nel settore dell'occupazione vediamo le altre notizie da privata pubblica una via dimenticata si tratta di un tratto di via respighi terra di nessuno perché nessuno se ne occupa e ovviamente protestano i residenti della strada dove manca il collegamento con la rete fognaria ecco qua il titolo ormai da quattro anni questa è una situazione che si ripete senza che nessuno si degni di dare una risposta e a fondo pagina vediamo come la presidente dell'ordine degli infermieri lascia il suo incarico si tratta di laura biagiotti che da tanti tanti anni 16 anni pensate ricopre questa carica ha lottato tantissimo per difendere le stanze i diritti degli infermieri dell'ospedale di fano di pesa insomma di tutta l'azienda sanitaria prima e poi dell'aste adesso e probabilmente lascia perché è possibile così almeno fa supporre il corriere adriatico una sua candidatura nella prossima tornata amministrativa mercato delle erbe ancora problemi per quanto riguarda lo spostamento del mercato delle erbe di pesaro prima nel convento a ridosso di piazza del popolo ora invece trasferito in altro luogo mercato delle erbe molte le criticità ancora fatica a insediarsi e tutto l'insieme delle bancarelle in questo nuovo luogo il paso rappresentante della confe esercenti dice che tutto raffazzonato mentre l'assessore franquellucci è serena e insomma dice che tutto poi si sistemerà e speriamo che le cose vadano al meglio al più presto perché ovviamente non si possono perdere giorni e questo è per quanto riguarda il corriere adriatico ora apriamo il resto del carlino e vediamo come un più ampio articolo riguardi i dati che sono stati resi pubblici ieri per quanto riguarda le manifestazioni natalizie ne hanno parlato in modo particolare l'assessore agli eventi etienne lucarelli e soprattutto anche don marco polverari l'autore del presepe di san marco insieme a maurizio romagnole l'artista che ha realizzato tante pitture tanti affreschi sui muri dello scantinato di palazzo fabbri un palazzo storico della città di fano ma anche ha realizzato veramente di fatto tutte le scenografie tutte le statue in movimento e qua vediamo anche i rappresentanti delle associazioni luciano cecchini il presidente dell'associazione albergatori e vicepresidente invece della confesercenti di fano anche rappresentante sindacale e stefano mirisola scoppiettante così è stato definito il natale 2023 di fano dato che quasi 20 mila persone sono state attirate dal presepe di san marco e dal gioco di luci della san francesco diecimila san marco diecimila la san francesco e sono venute persone da tante tante località e don marco ha riferito anche dei commenti che queste persone hanno lasciato scritte nel registro delle firme ebbene sono venuti tre pullman da napoli e una bella un bel commento dice noi a napoli di presepi ce ne intendiamo ovviamente è così e questo è veramente un presepe bellissimo quindi un bellissimo complimento per l'opera grande soddisfazione per l'opera di don marco e di romagnoli bello anche lo spettacolo di san francesco che verrà replicato così ha dichiarato l'assessore lucarelli durante il periodo della primavera inizio estate per animare la bassa stagione la giungla dei taxi si prenota e non arrivano questa è una grande carenza della città di fano il servizio di taxi così come risulta dal resto del carlino non è stato mai funzionale e in modo in modo accettabile insomma non funziona a dovere questo servizio di taxi perché lo si prenota poi non arrivano poi magari arrivano in ritardo e ci sono persone che hanno rischiato di perdere anche l'aereo perché prenotando il taxi non hanno ricevuto sotto casa al momento opportuno e c'è la proposta la protesta di una signora che evidenzia quanto quanto è avvenuto giorni fa questo il titolo un affanese ha rischiato di perdere un aereo perché l'auto che aveva avvisato il giorno prima non si è presentata sotto casa e vediamo anche il commento politico che fa il resto del carlino questa mattina in merito alla riunione delle segreterie provinciali del centro destra nessuna decisione sul candidato la segretaria provinciale di forza italia elisabetta foschi toglie ogni illusione agli alleati e a decidere come giusto che sia dovranno essere le segreterie comunali sfonda la vetrina ruba e aggredisce i carabinieri questo è l'articolo che riguarda il fatto di cronaca caduto in via montevecchio per fortuna non sono uno che si lascia scoraggiare ha detto il proprietario del negozio il giovane di 19 anni con le difficoltà che ha dovuto affrontare per aprire il negozio ora si trova anche di fronte a questa a questo danno economico importante circa dai 5 a 7 mila euro per e qui vediamo anche la vetrina sfondata per quanto avvenuto da questo o da questo immigrato dall'africa dall'africa che ancora non si è integrato un appuntamento un appuntamento importante in piazza domani per la festa degli animali si festeggia sant'antonio abate anche se non è proprio il giorno canonico la festa di sant'antonio abate 17 di gennaio però insomma domani in piazza 20 settembre a fano c'è la benedizione degli animali e ci saranno veramente tanti gli animali in modo particolare i cani e poi anche gatti cavalli asinelli animali da cortire volatili saranno condotti dai loro padroni per la tradizionale benedizione che avrà in occasione della ricorrenza di sant'antonio abate organizzata con il patrocinio delle comune dall'associazione di protezione civile delle giacche verdi queste belle unità a cavallo che insomma sono un bel presidio di tutto il territorio la cerimonia religiosa sarà ufficiata dal parroco della cattedrale don giorgio giovanelli alle ore 10 e 15 al termine poi tutti in piazza per la benedizione degli animali e sarà veramente una bella festa per tutti coloro che amano appunto gli amici dell'uomo mondolfo sorcinelli sfonda con il suo profumo da oscar lo vediamo qui in questa enorme fotografia il sarto dei papi si afferma con una nuova creazione un profumo vincendo il premio come miglior fragranza italiana di nicchia del 2023 un successo dunque anche per in questo campo e poi l'articolo di cronaca cade mentre pota soccorso con l'eliambulanza a mondolfo abbiamo visto che era che era nel vicino alla storica abbazia di san gervasio lungo la statale 424 la cesanese palloni gonfiati bisse condannati due dirigenti per quanto riguarda questa vicenda è stato assolto il sindaco maurizio gambini che era tra gli imputati e quale rappresentante di uno sponsor due condanne per altrettanti dirigenti sportivi di allora dell'associazione urbino pieve a soluzione per tutti gli altri sponsor tra cui appunto il sindaco maurizio gambini vediamo anche l'articolo che ci viene da santo stefano di gaifa maxi variante al piano regolatore per 40 mila metri quadrati carraps uno scempio non passerà la delibera trasforma santo stefano di gaifa luogo del cuore fai luogo importante dal punto di vista monumentale paesaggistico un vasto terreno agricolo in industriale ed una decisione viene acerbamente contrastata dai dagli ambientalisti e qui c'è un'altra situazione critica quella della guinza interviene fernanda sacchi che è la sindaca di mercatello sul metauro mercatello è un paese che viene molto molto interessato dall'aumento di traffico che sarà conseguente l'apertura della galleria della guinza e quindi ci sono problemi ci sono perplessità che devono essere superati la sindaca dichiara non ho puntato i piedi sul declassamento a due corsie ma adesso dobbiamo remare tutti insieme dalla stessa parte per il bene del territorio e dopo aver remato noi invece chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 grazie per ascolto e a risentirci